Lezione evolutiva di Sentire in Sentire di VB I maestri materiali che si sono manifestati attraverso il cerchio K hanno più volte affermato che tre persone di questo gruppo si sono conosciute intensamente nella loro precedente incarnazione al tempo della rivoluzione francese. Queste persone completano adesso l'apprendimento della lezione evolutiva iniziata in Francia nell'incarnazione precedente. È nata così l'idea di una cronaca reincarnativa dei tre elementi del Cenacolo su cui i maestri hanno fornito molte informazioni. Parliamo di cronaca reincarnativa perché la storia evolutiva dei tre si dipana attraverso le esperienze vissute nelle due ultime incarnazioni. Alle loro storie si aggiunge quella di Maria che nell'attuale incarnazione è amata da Marco lo strumento del Cenacolo. Vedremo perché. Ecco le otto reincarnazioni incrociate. Chi al tempo della rivoluzione francese è stato Jacques Reynaudot nell'attuale incarnazione è il medium Marco. Chi è stato François Chamillard nell'attuale incarnazione è il priore. Chi è stato Vincent de la Chapelle nell'attuale incarnazione è il Saint-Just. Chi è stata Immacolata Chenier Wittenberg nell'attuale incarnazione è Maria.